Siamo in compagnia di Monsignor Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, a due giorni dall'elezione del nuovo Papa Francesco. Monsignor Lucarelli, che impressione ha avuto intanto dal primo impatto del nuovo Papa con la folla di Piazza San Pietro? Un'impressione, mi è sembrato che fosse di fronte a quella marea di gente che lo acclamava si è trovata un attimino abbastanza libera di quello che voleva dire, della situazione in cui si trovava. Si è presentato con un saluto molto semplice, ha incoraggiato la gente a cogliere questa sua presenza, ha creato simpatia con il nome che ha scelto, perché in fondo il nome Francesco, che nella storia mai si era proposto da parte di un Papa, lui l'ha preso e in questa scelta io intravedo anche un qualcosa del suo programma di vita. Insomma, la realtà di una povertà, di un distacco dei beni, di un cammino sulla via della povertà e del distacco, credo che possa essere un segno che lui ha voluto dare, scegliendo il nome di Francesco. Senta, secondo lei, i cardinali che hanno votato, adesso noi questo non lo sapremo probabilmente mai, però ci possono essere dei motivi per i quali si sono rivolti al Sud America? È un continente, diciamo, un po' particolare? Ma proprio questo io ci ho visto, cioè l'America, l'America del Sud in particolar modo, è una realtà in cui i cristiani sono tanti. Forse c'è un cammino cristiano da purificare, da approfondire, però sono tante le realtà delle persone che si ispirano al cristianesimo. Probabilmente questa massa di gente che fa parte della Chiesa, un pochino ai margini dal punto di vista anche della lontananza geografica dall'Occidente o da altre realtà, probabilmente ha portato i padri a puntare su questa realtà. Peraltro sembra che il Papa Francesco abbia già nella precedente elezione del Papa sia stato uno di quelli che avevano riscosso una particolare simpatia da parte dei padri del conclato. Senta, nella prima apparizione pubblica il nuovo Papa non si è mai definito appunto Papa. Nel lui, questo l'hanno notato alcuni giornalisti, nel lui né Benedetto XVI, ma si è definito il Vescovo di Roma e ha parlato del Vescovo Emerito. Potrebbe sembrare una sorta di ridimensionamento quasi della figura del Papa, non in senso dottrinale, ma quasi per questo spirito di austerità e di che sembra aver intrapreso. Indubbiamente io ho notato questo suo insistere sul Vescovo di Roma, il Vescovo di Roma è merito. Nella mia riflessione ho ritenuto che lui voglia sottolineare più la realtà dei Vescovi, del Vescovo di Roma nei rapporti con gli altri Vescovi, come una realtà la quale forse forse insisterà nel suo prosieguo della... sì, perché il Papa è visto un po' come il sovrano assoluto dal punto di vista della mentalità della gente. Il Vescovo di Roma è uno dei Vescovi del mondo che però presiede la carità di tutte le chiese del mondo. Ieri ha fatto la prima messa, diciamo, nella Cappella Sistina. Lui ha parlato, ha fatto un'omelia a braccio, quindi senza leggerla, senza la mitria, dall'ambone perché aveva bisogno del lezionario sotto. Lui ha insistito un po' sulla necessità di edificare, costruire, anche ha parlato ai cardinali dicendo che bisogna andare nelle periferie. Insomma, anche questo sembra... se si parla, se ha parlato di questo edificare, costruire, uno ha la sensazione quasi che ci sia la necessità di... che ci siano delle macerie, insomma, o che ci sia qualcosa da... diciamo, dei vuoti da riempire. Potrebbe essere questa anche l'idea di San Francesco che ricostruisce la... ecco... Anche il nome scelto di Francesco, che Francesco va a ricostruire la mia chiesa, forse lui fa questo legame, sa, con la figura di Francesco, con il nome da lui preso, con questa necessità da parte della Chiesa Universale di purificare se stessa da parte, sì, dei vari membri della chiesa, quello di riscoprire certi valori rimasti soppiti nel tempo, forse, in qualche modo accostarsi alla realtà dei poveri, tra virgolette, come ha fatto San Francesco, nella sua scelta di vita consacrata. Senta, sempre per parlare di questi primi atti, in due giorni sono stati tantissimi, è difficile che un Papa e nei primi due giorni faccia tutte queste cose. Intanto ha molto colpito che è andato ieri a Santa Maria Maggiore, per esempio è andato con una macchina più semplice, ha voluto già la scorta ridotta e ha detto io sono un pellegrino tra i pellegrini, non mi può fare niente nessuno. Ha portato un mazzetto di fiori alla Madonna. Sono sembrati gesti molto semplici, abbiamo sentito i ragazzi di una scuola di fronte all'albergo dove lui risiedeva prima del conclave. Sono piccoli gesti che farebbero quasi pensare un giorno a un Papa che va, dico così, per fare una provocazione a spasso per Roma, insomma. Cioè è anche un tentativo, secondo lei, di desacralizzare un po' una figura che forse nel tempo è stata troppo, come potremmo dire, accresciuta di prestigio, un po' mitizzata. Ecco, forse è anche un po' questo. Beh, io adesso questo non l'ho pensato prima, comunque tu mi porti a dire questa sottolineatura che potrebbe anche essere. Cioè il Papa nel vivere la sua vita semplice, se è vero che nella sua diocesi andava, prendeva la metropolitana in mezzo di, o talvolta andava anche in bicicletta quando era più giovane, suppongo, però andava a fare la cresima, così diceva un padre che era stato lì nella sua diocesi, andava a fare la cresima con i bicicletten. Sono quegli elementi un po' dettati della sua personalità semplice e in qualche modo essenziale. E un po' forse anche per sottolineare alcuni elementi di sentirsi pastore in un popolo di Dio in cui tutti sono portati a riscoprire l'essenziale di un cammino di fede, di un cammino di vita comunitaria. Secondo lei questo stile un po' nuovo probabilmente si consoliderà e ci sorprenderà ancora di più nel futuro, se continua così. Potrà incidere pure nel Ministero Pastorale dei Vescovi, almeno diciamo quelli che saranno un po' più attenti a questi segni? Probabilmente sì, cioè alcuni segni che Giovanni Paolo II, quando diventò Papa, mise in atto e a un certo punto erano seguiti da anche tanti altri Vescovi, i quali qualche volta scimiotavano forse in maniera anche un po' impacciata. Il prendere in braccio un bambino che il Papa faceva con semplicità per qualcuno diventava un po' un problema. Però tutto questo poi dipende anche dalla sensibilità di ognuno, dalla capacità di adeguarsi, senza scimmiottare, adeguarsi alcuni segni, alcuni gesti che possono essere anche graditi dalla gente che si è sentita salutare con quel buonasera, cosa che io in 70 anni di vita non l'ho mai sentito dal Papa, dal balcone. Però è una realtà forse propria del suo popolo, della realtà da cui proviene e l'ha utilizzata anche per la gente che sarà la sua gente nel futuro. Senta, le prime impressioni anche della stampa, perfino della stampa un po' anticlericale, sono state tutte positive. Però noi possiamo dire che il Papa non è che si nutre solo di segni così, ma dovrà governare la Chiesa. Secondo lei ci sono dei nodi un po' difficili da sciogliere nel governo centrale della Chiesa di Roma? Indubbiamente la Chiesa, diciamo pure, è una struttura talmente grande, talmente complicata che ci sarà da prendere anche delle posizioni in bene, in un maggiore bene, nell'eliminare qualcosa che potrebbe non andare bene o non rispondere più ai canoni della realtà della vita della Chiesa. E questo lo vedremo nel tempo, insomma, perché il Papa in due giorni ha messo in atto diverse cose, però la storia della guida della Chiesa è molto complessa e diversificata anche da nazione a nazione, da luogo a luogo. Ma gli input che lui darà certamente avranno il loro valore e saranno seguiti, penso, da tanta gente. Senta, che cosa possiamo dire ai cristiani reatini, ai cattolici reatini, ecco, come incoraggiamento insomma a seguire e anche a stare vicini al nuovo Vescovo di Roma, così come si è definito lui? Indubbiamente, così come si è presentato, è una figura che a noi potrebbe essere simpatica, in fondo la sua realtà, tra virgolette, molto nominale, però francescana, per noi può essere un elemento che ci tocca più da vicino, perché in fondo viviamo nella realtà della valle francescana, non i santuari francescani che abbiamo, sono elementi che ci portano a sentirci più in sintonia con lui in questa direzione della semplicità francescana, della vicinanza ai poveri, vicinanza ai bisognosi, questa realtà che noi dovremmo sentire e che Francesco si è insegnato, l'ha nel suo tempo e dovrebbe perdurare tuttora, soprattutto nei suoi frati ed anche nel popolo di Dio. Senta, era per me l'ultima domanda questa, però mi è venuta un'altra. Non è però un po' strano, questo mi è venuto adesso in questo momento, che un gesuita, è vero che c'è anche un santo gesuita che si chiama San Francesco Saverio. Non è un po' strano che un gesuita si metta il nome di un santo, diciamo che noi abbiamo pensato subito tutti a San Francesco e non al San Francesco Gesunita. Probabilmente lui ha pensato a Francesco di Assisi, non a San Francesco Saverio, ma a altri santi di nome Francesco che nella storia ci sono stati. Certamente la figura predominante in lui è stata quella di Francesco di Assisi, anche secondo il suo stile di vita là dove viveva, che è un appartementino presso il Palazzo Vescovile, però insomma in maniera molto austera. Quindi potrebbe essere questo programma che lui ha bozzato già solo con il nome, è in qualche modo un'indicazione anche alla Chiesa di una maggiore, forse condivisione, di una maggiore sobrietà. Io ci ho visto questo e credo che sia questo lo stile che lui tenderà di assumere e di offrire e di proporre anche alla realtà della Chiesa universale. Ringraziamo Monsignor Delio Lucarelli per questa intervista sull'elezione del nuovo Papa. Grazie a tutti i nostri spettatori.